Luigi Sciolti è un consulente AdWords Salentino molto apprezzato in Italia anche per gli interventi che fa spesso e volentieri in parecchi eventi di settore tipo lo SMAU, gestisce ormai account di primaria importanza a livello nazionale e nell'evento AdWords Experience 2013 ci ha parlato in particolare di landing page dinamiche ovvero sia di una tecnica di modifica delle landing page di una campagna AdWords in collegamento con le parole chiave che hanno generato l'annuncio e che quindi hanno portato l'utente sulla pagina di atterraggio. Nello specifico si trattava di un caso nel settore automotive ma qui il settore non è così importante, più importante è la tecnica. Vediamolo. Allora volevo innanzitutto ringraziare Gianpaolo per avermi dato anche quest'anno la possibilità di essere qui con voi a condividere una mia esperienza e a sentire, ad ascoltare le domande e gli interventi degli altri amici e colleghi, perché questi interventi sono importanti soprattutto per la condivisione che si genera in aula e i contatti poi che si vengono a creare. Allora oggi vi parlerò di un particolare account e un cliente che è venuto in agenzia perché aveva bisogno di uscire da una penalizzazione SEO e questo cliente si occupa di vendita di ricambi meccanici, quindi turbine, motorini di avviamento e cose che riguardano il cuore della macchina. La particolarità di questo cliente è che ha iniziato da zero, nel senso che era uno che era dietro ai ferri e pian piano è diventato un responsabile commerciale di una grossa azienda e adesso ne ha una che vanta 25 dipendenti, quindi comunque parliamo di un'azienda che è cresciuta. Il suo target qual è? Stiamo parlando di ricambi, il suo business principale è quello di rigenerare questi pezzi meccanici come una turbina che viene presa danneggiata e lui ha dei macchinari che permettono di rigenerarla e in più le vende anche nuove. I target sono officine specializzate e i privati che fai da te, in senso che cercano il pezzo che il meccanico gli ha detto che si è rotto e quindi effettuano delle ricerche. I punti di forza in questo caso sono che il cliente aveva già iniziato da solo a fare SEO e aveva, come ho detto, l'esperienza offline. Non so se avete visto il film di Mel Gibson, è il caso di citarlo perché lui ha ascoltato dal vivo per tanti anni le richieste dei meccanici e facendo parte di un'assistenza tecnica conosceva le chiavi. Quindi ha iniziato a fare un po' di analisi online perché una persona giovane ha iniziato a vedere che cosa i competitor facevano su internet e ha visto che i siti che erano meglio posizionati avevano il titolo che richiamava la tipologia del ricambio, il nome dell'auto e il particolare modello. All'interno di contenuti aveva veramente poco, cioè avevano poca roba. Quindi ha detto io ho un database e provo a utilizzare questo database per generare tante pagine che mi parlano di questo prodotto ma fondamentalmente all'interno di contenuti non c'era nulla. Quindi come ho detto ho pagine ottimizzate per i motori di ricerca secondo lui, ho messo tre virgolette, e semplicemente per tipologia di ricambio, un marchio dell'auto e un modello. A livello di contenuti, i contenuti di ogni pagina erano uguali. Non lo poteva fare da solo, quindi aveva un cugino, Eugenio, e se conoscete il film Ritorno al futuro, Doc. I video completi dei singoli interventi, quello dell'intera giornata e la tavola rotonda finale li trovi su shop.adwardexperience.it